Non lo dirai a nessuno? Certo non lo dirò a nessuno Eppure io sono in forse, io mi domando se ho il diritto Capisci tu mi chiedi una cosa molto delicata, molto personale Non vuole più Non ho detto questo ma dammi almeno il tempo di respirare, via Guarda proprio perché sei innamorata E spero tanto che ti porti fortuna, eh Tu sei troppo giovane per aver conosciuto Weidman Era un sadico che assassinava le donne e le derubava Il 16 giugno del 1936 lo ghigliottinarono alle 6 del mattino a Versailles Io mi trovavo là Era così bello, così pallido C'erano centinaia di persone all'esecuzione, erano saliti perfino sugli alberi Quando venne giù la mannaia il corpo ebbe un gran sussulto Le donne urlavano tutte E io mi precipitai a bagnare il mio fazzoletto nel suo sangue Proprio qui a Catania si recitava una commedia di Goldoni Io dovevo portare in scena un pollo che di solito era di carta pesta Quella sera era vero, un profumino Mi metto da una parte e comincio a mangiare un pezzo Quando sento pantalone Allora sto polastro, tutto l'avevo mangiato Entro in scena e dico Confesso il mio peccato e il pollo ho divorato Come sto facendo ora con questo pollo ai a 10 porzioni Che valeva la pena arrivare fino a Catania per gustare